Barbieri il 2 a 0 molto importante perché ha dato una svolta alla partita, ha spezzato alcuni equilibri che si erano creati soprattutto all'inizio del secondo tempo, su quella palla ci hai creduto tantissime. Sì è vero, ci ho creduto fino alla fine anche se il guardalina mi ha chiamato fuori gioco, poi non ho capito, io esultavo, nessuno esultava con me, però dai è andata bene, ci ho creduto e questo è l'importante, l'ho segnato, poi la partita si è sviluppata al meglio possibile per noi 4 a 0. Secondo te era giusto proseguire, quindi hai fatto bene secondo te a proseguire? Sì sì assolutamente, devi sempre crederci fino alla fine, soprattutto quando è mezzo mezzo il fuorigioco come in questo caso. Avete avuto un passo diverso ad inizio secondo tempo, che è successo negli spogliatoi? Ma noi stiamo bene da agosto, abbiamo fatto una grandissima preparazione con il mister e si vede come siamo messi bene in campo, come corriamo, come sulle seconde pale, come siamo bene, si vede. Hai corso per esultare verso papà per questo 2 a 0, sicuramente a lui la dedica che è il tuo primo tifoso? Certo, a lui che mi segue sempre e a chi mi segue dall'alto e che mi dà la giusta forza. Ururi come scelta, ripartito col San Pietro, poi l'anno scorso tu, ti sei spostato a te, sei tornato a Termoni, adesso Ururi è un salto importante in eccellenza? Un grandissimo passo, perché è una categoria superiore rispetto all'anno scorso, dove ho giocato in prima, poi in promozione e subito quest'anno in eccellenza, quindi un grandissimo passo. Coppa mercoledì, però la gara più importante è sabato a Baranello? Sì, ora abbiamo la Coppa fra due giorni contro il Guglionesi decisiva, perché dobbiamo vincere per forza, dobbiamo prendere questi tre punti e andare a prendere anche i tre punti a Baranello sabato per la terza di campionato.